Allora, breve messaggio di saluto da parte del direttore marittimo della Toscana, ci ringrazio appunto perché lui non è potuto essere qui oggi, comunque alla fine di questo importante percorso formativo che è stato svolto con grande impegno e con la determinazione a ben figurare. Un ringraziamento particolare a tutto il personale docente e al professor Shendi Assen, io vorrei giubilare al professor Zorn, che ancora una volta ha saputo motivare i discenti sapendo far emergere i loro interessi ed accrescendo efficacemente le loro competenze. Con la certezza di incontrarci quanto prima, la Guardia Costiera rimane a disposizione per eventuali iniziative future e porge sentimenti di grande stima e considerazione nei confronti di tutti i partecipati a questo corso. di formazione per l'eccellenza e lavoro svolto con Trammiraglio Gaetano Ancora e il suo stato. Quindi le ringraziamo per un esercizio. La voce vedrà con un pezzetto di video di questo incontro e a questo punto via.